Ogni opera dovrebbe riuscire a parlare da sola Più ci si avvicina, più il quadro sembra quasi una strada Poi man mano che si si allontana C'è un lavoro di minuzione, di continuo sovrapporsi di pennellati, di segni E il futuro credo che sarà invece continuare a togliere Arrivare sempre a una sintesi maggiore dei lavori Perché il mio segno è proprio dato da questi piccoli tratti di pennello Che visti assieme poi creano l'immagine L'arte mi aiuta L'arte è terapeutica perché comunque mi definisco molto più pittore che artista Cioè credo ancora nel lato un filino artigianale del lavoro Il mio modo di esprimermi è dipingere Grazie a tutti Grazie a tutti